Ti sembra che sia un po' dimagrito? No, Letter, neanche una libra. Niente. Piuttosto, senti, siamo fuori di un sacco di verdoni. Sei sicuro che Cannonball vincerà? Devo tornare alla vecchia dieta, questa roba è terribile. Sai che ti dico? Stai molto meglio grasso, ti fa tipo. E sai che altro ti dico? Coy è in quarta posizione. Gli hai spiegato a Benny che gli succederebbe se il fratello non vincesse? Sentite, amici, vedrò Benny a St. Louis stasera. Se il fratello sarà indietro, lo torcherò un po'. Non c'è da preoccuparsi, Cannonball Buckman vincerà questa corsa, in un modo o nell'altro.